A Giovanna Ralli il premio alla carriera in occasione della 67esima edizione dei Premi David di Donatello. Lo ha annunciato Piera De Tassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano. Il premio sarà segnato il 3 maggio in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà con la conduzione di Carlo Conti. 87 anni, la Ralli è una delle protagoniste assolute del cinema italiano. In 70 anni di carriera ha lavorato assieme ai maggiori attori del cinema italiano, da Vittorio De Sica a Franca Valeri, da Vittorio Gasban a Marcello Mastroianni, da Stefania Sandrelli a Ugo Tognazzi.